ciao a tutti ragazzi benvenuti nel canale gameplays un saluto dal vostro amico salvo come vedete sul canale ragazzi ci sono pubblicate due guide una di 33 video e l'altra mi pare di 10 video ho fatto i due finali manca un ultimo finale da fare e platino in gioco ragazzi come state vedendo visto girando sepolcrite facendomi tutti i falò e quant'altro però ditemi nei messaggi in questo video se volete che porti anche il terzo finale che sarebbe il finale di ranni la strega sul canale fatemi sapere ragazzi quindi adesso io pubblico questa videoclip come sempre vi chiedo un bel pollice all'inizio iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per restare sempre aggiornati quindi aspetterò di leggere i vostri messaggi quindi io adesso vi saluto e vi ringrazio come sempre ragazzi